www.redigio.it e la storia continua 1968 a Roma c'è una riforma anche per i Santi con una conferenza stampa tenuta il 9 maggio 1968 da padre pierre journal il vaticano annuncia la riforma del calendario liturgico sono cancellati 30 santi dei quali si sa soltanto che forse sono esistiti sono ridotti a culto locale 33 santi e gli altri 95 declassati a culto facoltativo commenta monsignor enrico catanio docente di liturgia all'università cattolica di milano i santi oltre che intercessori presso dio sono anche modelli di virtù che il cristiano deve sforzarsi ad imitare ma se non sappiamo storicamente chi erano e come erano come possiamo imitarli la riforma non avrebbe probabilmente molta risonanza se non toccasse santi di grandissima popolarità tra i cancellati ad esempio figurano cristoforo il patrono degli automobilisti e barbara la patrona degli artiglieri tra i declassati a culto facoltativo si trovano nicola di bare il veneratissimo gennaro dei napoletani giorgio il giovane che lotta con il drago venerato come patrono a genova e in tutta inghilterra padre junel nella sua conferenza stampa ha un tono spigliato parla di santi mai esistiti nati da una mentalità da medioevo e aggiunge sorridendo qualcuno mi ha pronosticato che se andrò in paradiso troverò probabilmente i santi cancellati ad aspettarmi con il bastone è un tono che dispiace a molti e l'osservatore romano lo trova eccessivamente disinvolto tale da dar luogo a incredibili fraintendimenti giudica le battute del sacerdote facesse di dubbio gusto e assicura ai devoti che sia trattato di un allarme senza fondamento afferma la devozione e il culto locali non sono minimamente intaccati o messi in discussione anche qualora le prove storiche sulla vita di alcuni santi non siano così esaurienti come la critica attuale e pretenderebbe tuttavia via chi non è affatto risultante per la decisione di paolo sesto a napoli per esempio alcuni guardano la riforma come uno sgarbo fatto il loro protettore descrive la domenica del corriere a napoli sono arci convinti che il papa abbia torto e san gennario abbia ragione san gennaro a modo suo ha infatti contestato le decisioni di paolo sesto e in un modo più partenopeo ed estroverso non avrebbe potuto essere lunedì 12 maggio si era sparsa la voce che il sangue del patrono dava segni di contestazione la cattedrale si è subito riempita non mancavano le preghiere rispettose ma erano sovrastate dal grido consueto faccia ingialluto facci faccia ingialluta faccio miracolo e il miracolo c'è stato il sangue del santo ha avuto una tale ebollizione improvvisa da minacciare da far scoppiare le ampolle benedette dove è conservato per i napoletani la polemica è chiusa non importa se in alaska o in giappone san gennaro non è conosciuto né venerato a napoli e dunque nel mondo si trovi un napoletano che si rispetti le sue azioni devozionali non caleranno mai san gennaro come sosteneva peppino marotta non dice mai no a milano un cronista va a trovare l'ottantenne parco di san cristoforo lo trova sul sagrato della piccola chiesa costruita sul naviglio con le offerte dei barcaioli e dei carettieri il parco ricorda che la prima automobile benedetta in nome del santo ora cancellato fu quella della regina margherita dice ora ne me ne dico 4 o 5 al giorno la domenica c'è addirittura la fila non so come andrà a finire ma penso che continueranno a venire macchine e automobilisti l'avvocato gustavo marinucci presidente dell'automobile club dichiara non si sa con quanta amarezza adesso dobbiamo aiutarci fra noi dal momento che siamo stati abbandonati da san cristoforo il generale pascucci presidente degli artiglieri d'italia la cancellazione di santa barbara dal calendario e per noi è stato un dolore nel leggere la notizia sui giornali siamo rimasti stupiti e rammaricati anche se la figura è leggendaria noi artiglieri nutriamo per santa barbara un culto vivo e sincero abbiamo dato un nome anche alle nostre riservette di munizioni io porto ancora al collo una catenina con la medaglietta di santa barbara che mi regalò mio padre la riforma non trova il suo solo motivo nel desiderio di una maggiore fedeltà alle conoscenze storiche un'altra ragione importante sottolineata da padre journal è l'impegno di universalizzazione della chiesa nel nuovo calendario liturgico compaiono i martiri giapponesi 6 febbraio canadesi 19 ottobre dell'uganda 3 giugno nell'oceania 28 aprile e tre santi peruviani fra i quali il meticcio martin de porres 3 novembre già nel concilio un cardinale belga aveva rilevato che nell'elenco dei santi esistevano sproporzioni gravi a partire dall'ottavo secolo l'ottantacinque per cento delle cause di beatificazione avevano riguardato soltanto religiosi e il 90 per cento solo italiani francesi e spagnoli nel calendario si cerca ora di far più posto ai larici da cancelliere inglese thomas moore alla giovanissima contadina italiana maria goretti scrive ancora la domenica il corriere il problema non è tanto quello di epurare o declassare qualche santo quanto quello di rieducare gradualmente i cattolici alla vera devozione liberandoli da quelli componenti di superstizione che spesso sfalsano la vera devozione i santi per il cattolico sono venerati in quanto imitatori di cristo anche per grazie immediate possono essere pregati per guarire mal di denti o mal di pancia per la promozione del figlio o per trovare marito ma guai ad esaurire un nel mercatino privato se non addirittura in una specie di borsa nera più vicina alla magia analfabeta che alla ricerca di cristo il rapporto privato e liturgico con essi sarebbe poco meno che pretendere di rendere distributori automatici di grazie come quelli nelle stazioni si gettonano per la gomma da masticare invece per l'educatore di senso è la scoperta della grazia e l'iniziativa vaticana è vista da alcuni come un invito a frenare il desiderio talvolta eccessivo di trovare patroni per ogni più diversa attività una tendenza spesso più vicina a folclore che alla devozione si fa un esempio e allo studio la richiesta di porre i calciatori sotto protezione di san vittore ma come mai spiega un settimanale san vittore martire a roma condotto nel circo e forzato a scegliere fra l'adorazione dei pagani e la morte prese la palla d'incenso acceso nel tripode e con un calcio perfetto lo lanciò in faccia l'imperatore massimiano grazie a tutti Grazie a tutti